Nel video di unboxing ho già introdotto l'UltraMic 384K BLE, un microfono ultrasonico per studi bioacustici su insecti, rodenti e baci, e vi ho anche mostrato tutti i suoi accessori. Nel prossimo video vi mostrerò, in diverse situazioni e ambienti, tutte le strutture di questo microfono e come lo usare. Ora voglio mostrare una breve previsione dell'uso dell'UltraMic 384K BLE per monitorare bioacustica. Vi raccontrerò in dettaglio, nelle prossime video, tutto ciò che vedrete in questo video. Buongiorno a guardare! Tutto ciò che bisogna è un smartphone Android sul quale l'app di batteria ha stato installato, un DodoTronic UltraMic 384K BLE connesso al smartphone con un cable USB. 3 OTG. Finalmente, possiamo usare un smartphone audio per portare l'UltraMic e il smartphone insieme. Quindi abbiamo tutto ciò che bisogna per iniziare la monitorazione bioacustica di batteri. Atrodyne è un modo che le dettuttori rendono specifica auxerne abitazioni, perché le recolo sono molti ultrasounde. Other modi sono l'espansione di tempo e la divisione di frequenza. Tutti questi modi possono essere usati con l'UltraMic 384K BLE e l'app del BAT Recodio. vedremo in un'altra video. Questo è il spettrogramma di un ruolo di bat, che è la rappresentazione grafica del sonno che ha emittato il bat. Il ruolo di bat, con un sonno particolare, emittano per comunicare con l'altro, e sono molto frequenti, soprattutto durante la sese di spettro. Sono spesso molto diversi da l'ecolocazione che emittano per scannare l'environmento. Il ruolo di bat, con una roba e con un ruolo di bat, e il ruolo di bat, è un ruolo di bat, Questo è il ruolo di batte. Non è un ruolo di batte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.